tina ecco arrivato il parroco del paesino della montagna vai mi va a piangere tina allora ma sa che vuole dire tina cioè con quella mano mamma mia che stava di uno sfondone vai ma farlo parlare tina 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 ma c'è un po di invidia verso gemma perché arrivare alla sua età così sì da parte tua non c'è la possibilità di che non ci arrivi non ci arriva la sua età ma non c'è ma tieni ma no 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 in senso di di fisico di forma diventare mai come gioco a 70 anni sono qui tina tu vai sempre ingrassare ingrasserai sempre tina comunque sei una bella donna ma vai tina dai ma che tina dai e non ci arriverai se solo ingrassare un po tendente al tendente ma che c'è ciao